A questo punto la domanda viene spontanea. Cosa deve accadere perché Boris Johnson si dimetta? Il suo governo va in pezzi. Ministri e viceministri lo abbandonano uno dopo l'altro, 18 in tutto. Ma lui, davanti al Parlamento, dice che andrà avanti, perché alle elezioni di tre anni fa ha avuto un mandato popolare colossale, che però, stando ai sondaggi di queste ore, gli è stato revocato. Sette cittadini britannici su dieci ritengono sia ora che slogida Downing Street dopo l'ennesimo guaio. A Westminster aveva messo in un ruolo chiave il deputato Chris Pinscher, malgrado sapesse che era accusato di molestie sessuali, per cui poi si è dimesso. Il capo invece resiste con le unghie e coi denti, anche se, oltre a figure di secondo piano, l'hanno mollato due ministri di peso come Rishi Sunak, Economia, e Sajid Javid, Salute. Quando è troppo è troppo, ha detto Javid alla Camera dei Comuni. Gli aveva concesso il beneficio del dubbio in altri casi di scandalo, tra cui le feste private durante il lockdown. Ma ormai si è convinto che il problema è proprio Johnson e che lui non cambierà. In realtà, sia Javid che Sunak lo mollano adesso per farsi trovare pronti quando Johnson cadrà. Solo che il mese scorso è sopravvissuto a un voto di sfiducia del partito e stando alle regole, per un anno non se ne potrà tenere un altro. Certo, i conservatori potrebbero trovare un altro modo per scaricarlo, ma lui è pronto a dare battaglia. Il potere per il potere, tutto il resto non conta.